Invasione dei Longobardi. I Longobardi erano una popolazione di soldati, di guerrieri, lo vedremo tra poco, che arriva per la prima volta sul territorio italiano come un esercito mercenario impiegato dai bizantini. Che cosa significa esercito mercenario? È appunto un esercito composto da soldati che non appartengono davvero allo stato per cui combattono, ma vengono arruolati e vengono pagati per combattere per una determinata parte. Quindi i Longobardi arrivano in Italia, appunto abbiamo detto, come esercito mercenario dei bizantini, ma sono una popolazione di origine germanica. Sembrerebbe che la loro origine possa essere scandinava, quindi del nord Europa, ma poi prima di arrivare in Italia il punto in cui si stabiliscono i Longobardi e quello della Pannonia, che possiamo individuare nell'attuale Ungheria. Da lì venivano spinti verso sud-ovest dagli avari, un'altra popolazione che spinge altre popolazioni barbare, e quindi decidono di poi migrare verso l'Italia. Possiamo immaginarci all'incirca i Longobardi come una grande popolazione però composta da centocinquantamila persone, quindi potremmo dire una medio-grande città italiana, media città italiana di oggi, che si muove e entra all'interno appunto del territorio italiano attraversando le Alpi, guidati dal re Alboino, e nel 568 appunto dopo un grande assedio si prendono Pavia, che diventerà la loro capitale, ma si spingeranno addirittura fino al sud Italia, quindi Campania, Puglia e Basilicata. Quindi diciamo che i Longobardi arrivano da nord-est, ma poi arrivano a Pavia e arrivano fino al sud. Questo popolo era una società fondamentalmente guerriera, loro stessi si definivano dei guerrieri, ma il loro nome letteralmente che gli era stato dato dai, erano stati diciamo individuati così dagli altri popoli, era Uomini dalla Lunga Lancia, quindi questo ci dà già un'idea dello spirito militare di questo popolo. All'interno della loro società è suddivisa in grandi gruppi familiari, quindi grandi famiglie, chiamati fare. All'interno di queste fare c'erano tutti gli uomini liberi che erano capaci di usare le armi e quindi potevano combattere. Questi uomini vengono detti arimanni. A capo di ogni fara c'è un duca, un generale, un condottiero potremmo dire, che ha ampia autonomia. Infatti i Longobardi non hanno un re, o per meglio dire non hanno sempre un re. In che senso? I Longobardi hanno un re solo quando c'è una necessità, ad esempio in caso di guerra o nel caso di una minaccia da parte di un altro esercito. I duchi delle diverse fare si riuniscono, gli arimanni, membri delle diverse fare, si riuniscono insieme ai loro duchi ed eleggono un re. A questo punto il re rimane in carica per tutta la durata della guerra, ad esempio, o del periodo di crisi dal punto di vista militare, nel momento in cui finisce questa crisi o finisce la guerra, questo re decade. La, diciamo, società Longobarda è organizzata poi in questo modo. I gastaldi sono coloro che si occupano di amministrare lo Stato, amministrare il funzionamento economico dello Stato e di riscuotere le tasse. Ci sono poi gli Aldi, che sono coloro che si occupano dei lavori artigianali e agricoli. Spesso queste persone sono di origine italica e sono degli uomini semiliberi che possono, da un lato, oltre a che lavorare, ovviamente, possedere case e terreni, ma non possono possedere e usare le armi, quindi non sono degli arimanni. Infine, nel punto più basso della società Longobarda ci sono i servi, che sono totalmente sottomessi ai loro padroni e non sono liberi di fare ciò che vogliono. Grazie.